Presidente, una domanda, lei è stato testimone di tanti conclavi, a quale è rimasto più legato? Beh, a quello di Paolo VI, perché per noi era il nostro assistente e quindi eravamo abbastanza sicuri e probabilmente il fatto che lui negli ultimi anni fosse andato a Milano, che qualcuno lo interpretò come una specie di dissenso da Pio XII, invece era a mio avviso una condizione perché salvo Pio XII che aveva potuto essere Papa anche senza avere mai retto una diocesi, forse è difficile che i cardinali scelgano un Papa che non abbia esperienza pastorale.